Il viaggio in Russia del sindaco Biondi diventa un caso di scontro politico. L'avversione del sindaco sul viaggio istituzionale compiuto a Mosca lo scorso marzo assieme a suoi stretti collaboratori non ha convinto l'opposizione e se ne è parlato anche in Consiglio Comunale, dove il sindaco Biondi ha risposto in aula un'interrogazione che è stata firmata anche dai consiglieri Stefano Albano, Stefano Palumbo, Americo Di Benedetto e Paolo Romano del Passo Possibile. Secondo la minoranza però, nelle risposte di Biondi ci sono troppe lacune, tant'è che Paolo Romano del Passo Possibile ha chiesto di portare la vicenda in quinta commissione, che è quella di garanzia e controllo. Il primo cittadino ha spiegato che la missione di Mosca è stata la conseguenza degli ottimi rapporti che intercorrono tra l'Aquila e il governo federale russo, che dopo il terremoto ha contribuito al restauro di Palazzo Ardinghelli e della chiesa di San Gregorio Magno con due donazioni. Biondi ha desto di essere stato invitato da Sergei Kermin, ministro al Dipartimento degli Affari Esteri e Relazioni Internazionali del governo di Mosca, e di aver sottoscritto un importante accordo istituzionale, i cui contenuti sono stati illustrati in una delibera approvata dall'Aggiunta lo scorso 21 giugno. L'accordo che, ha dichiarato sempre Biondi, è una delle tante partnership sottoscritte dalla capitale russa con altre città italiane riguarda politiche di smart city, turismo, sicurezza e innovazione. Quanto alle spese, Biondi ha anche detto che il viaggio non è stato pagato dal comune, ma non ha detto neanche di averlo pagato di tasca propria, secondo l'opposizione. Le uniche spese, ha detto Biondi, sono state quelle sostenute per l'acquisto di doni acquistati per le autorità incontrate, 300 euro. L'opposizione però vuole vederci chiaro e Paolo Romano ha replicato che il suo discorso è stato troppo generico e quindi ha rimandato la questione in commissione garanzia.